La Torre Città nazionale, la Polizia di Stato, i suoi uomini e le sue donne per il lavoro quotidiano che fanno ormai in modo straordinario da 2014. C'è un contesto molto particolare, lo conosciamo tutti e anche grazie al loro impegno che si riesce ad andare avanti. Quindi era giusto riconoscerlo per questo lavoro quotidiano che fanno. Grazie.